Euro che è presente mai domani organizzato dall'informatore agraria con tre prodotti. Ente 2515, prodotto da localizzare con l'inibitore della nitrificazione. Ente 46, a base eureica, sempre con l'inibitore della nitrificazione, da dare in post-semina o altrimenti in questo caso è stato dato anche in pre-semina. Eute 46 con l'inibitore dell'oreasi. Nelle parcelle che adesso andremo a visitare vediamo la differenza intanto tra la parcella non concimata e quella concimata. Quindi si vede già un aspetto diverso della pianta che comincia già ad assorbire gli elementi nutritivi. Una parcella che abbiamo messo in questo campo è stata fatta con un prodotto localizzato, elente 2515, una frazione azotata con azoto nitrico e una frazione azotata con azoto ammoniacale. Esattamente l'11-14%. La differenza qual è? È che è stato inibito anche la frazione ammoniacale in modo da dare un seguito maggiore alla pianta in base alle proprie necessità, specialmente nelle primissime fasi di sviluppo della pianta. Non ultimo, l'aspetto anche più importante, c'è anche una parte di fosforo, che è un 15%, molto solubile. Attenzione al discorso degli fosfori molto solubili. Ente 46 è l'altra prova che abbiamo messo. In questo caso vediamo già la parcella fatta in pre-semina, dove abbiamo visto dei risultati eccezionali già come concetto di utilizzo di questo prodotto e vediamo già in questo stadio di primissime foglie uno sviluppo diverso rispetto alle altre parcelle. Quindi la pianta comincia ad avere la frazione azotata già nelle primissime fasi di sviluppo, dove necessita di questa forma azotata. L'altra prova è stata fatta con l'Utec, il classico prodotto da dare in copertura. La sua caratteristica è quella di ridurre le perdite di ammoniaca nell'ambiente, in maniera importante, che poi il concetto ecosostenibile che ci sta chiedendo la comunità europea, perché in questa maniera si dà più azoto disponibile per la pianta, quindi meno volatilizzato e quindi molto più disponibile per la pianta.